Il ricorso presentato nei confronti della Comune di Piacenza dai legali degli ambulanti titolari di concessione decennale per il tradizionale mercatino di Natale in Piazza Cavalli è stato respinto dal Tar di Parma. I magistrati hanno dunque ritenuta legittima la scelta dell'amministrazione comunale di affidare ad altro gestore, mediante avviso pubblico, l'organizzazione dell'evento fieristico, sottolineando che l'ente locale ha esercitato la propria discrezionalità in materia in modo congruo e rispettoso della normativa vigente. Il bando era andato deserto, l'incarico venne poi assegnato direttamente alla Bugatti e Venti, la quale però, anche a causa del ricorso e dell'incertezza che si era generata, si era ritirata. L'ordinanza della Tar rileva inoltre la prevalenza sui singoli interessi economici dei ricorrenti di un interesse pubblico della collettività a fruire nel periodo natalizio di iniziative e attività di aggregazione diverse da quella fieristica. Nell'esprimere soddisfazione per l'esito del contenzioso, il Comune ribadisce che non è mai venuto meno l'impegno per garantire un'animazione natalizia che contribuisca a rilanciare e promuovere l'attrattività del centro storico, anticipando che già nei prossimi giorni verrà reso noto il calendario degli eventi. Presto dovrebbe quindi essere anche comunicato il nome del soggetto incaricato. C'è invece una sola offerta al bando di gara del Comune per l'organizzazione della notte del Capodanno 2019 in Piazza Cavalli. Come anticipato da Libertà Oggi, l'ha presentata HPI Hollywood. Il Comune finanzierà 15.000 euro, lasciando all'aggiudicatario la possibilità di recuperare risorse da sponsor privati. Grazie. 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 Grazie.